Con l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che tiene conto della notevole riduzione della produzione dei rifiuti attuata in questi ultimi anni e delle normative nazionali e comunitarie successive, delineiamo un quadro di certezze per il futuro del sistema gestionale Umbro spinto sempre più sulla prevenzione, sulla raccolta differenziata e del recupero di materia, in cui viene superato il punto di stallo della chiusura del ciclo dei rifiuti con la termovalorizzazione in favore di impianti per la produzione di CSS, il combustibile solido secondario. Lo ha sottolineato l'assessore regionale all'ambiente Silvano Rumetti, illustrando questa mattina le scelte compiute dalla Giunta Regionale con l'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del maggio 2009, approvato al termine di un iter partecipativo che ha coinvolto enti locali, associazioni e organizzazioni di categoria, associazioni ambientaliste e che è stato anche sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica prevista dal testo unico dell'ambiente. Ridurre i rifiuti prodotti è stato questo, ha detto Rumetti, il primo obiettivo che nell'attuazione del Piano del 2009 ci siamo posti e abbiamo conseguito, passando dalle 594.000 tonnellate di rifiuti urbani previste nel Piano a 476.000 tonnellate, grazie al trend di costante calo registrato. Un andamento connesso sicuramente alla crisi socio-economica rilevato, ma a cui hanno contribuito la riorganizzazione dei servizi di raccolta domiciliare, le iniziative finanziate alla prevenzione e alla riduzione della produzione dei rifiuti. Il secondo obiettivo cui abbiamo lavorato, ha proseguito Rumetti, è stato quello dell'incremento della raccolta differenzata. Siamo partiti da un livello del 30-32% e nel giro di 2-3 anni, grazie in particolare al sistema di raccolta porta a porta, abbiamo ottenuto risultati straordinari, arrivando, ha spiegato, all'attuale media del 53%, con punte di eccellenza in alcuni comuni dove si è superato il 70-75%, un risultato che pone l'Umbria in testa tra le regioni del centro Italia. Con l'adeguamento del piano si vuol compiere un ulteriore salto di qualità, finalizzato soprattutto a risolvere le situazioni di disomogeneità sul territorio regionale ancora a livello più bassi. Grazie alla domiciliarizzazione della raccolta sull'intera popolazione è previsto il superamento del 68% come livello medio regionale di raccolta differenziata e allo stesso tempo l'incremento della qualità della raccolta in modo tale da ottimizzare i quantitativi effettivamente destinabili a processo di recupero.